Isolata per la prima volta a Brescia la varante Omicron del Covid-19, infettata una donna della bassa Bresciana. Non potrà entrare allo stadio, per un anno la ventenne raggiunta da un daspo deciso dal questore di Brescia, aveva esploso un fumogeno a Rigamonti. La regione ha scelto dove nel Bresciano sorgeranno le 34 case di comunità, 7 ospedali di comunità e 12 centrali operative e territoriali. Inzaghi e caccia di un altro cento nella partita di domenica con il Cittadella sarebbe la sua centesima vittoria in panchina. Le nostre mucche ci danno il loro latte, come non amarle. Per questo prestiamo la massima attenzione alla loro salute e al loro benessere. Perché solo così possiamo darti un latte fresco e di qualità ogni giorno. Centrale del latte di Brescia. Per noi il benessere delle mucche è centrale. Qui lo sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre. Per creare opportunità e affiancarti nei sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC Agro Bresciano. Ci riconosceremo al volo. Buonasera dal telegiornale. Dunque avete sentito dai titoli la variante Omicron è arrivata anche nel Bresciano. Ha infettato una donna della bassa Bresciana. Sentiamo i dettagli. Scoperto il primo caso positivo alla variante Omicron anche nel Bresciano. A riportarlo è l'edizione di Brescia del Corriere della Sera, che spiega che la conferma è arrivata ieri dall'Istituto Zopro Fedattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con sede proprio nella nostra città. La nuova variante avrebbe colpito una donna, residente nella bassa Bresciana, che avrebbe contatto il Covid per la prima volta. Salgono così a 10 casi di persone positive alla variante Omicron in Lombardia. A confermarlo, come riporta l'ANSA, è stata la vicepresidente e assessora welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, che a margine di un sopralluogo nel lab di Fiera Milano City, che ha iniziato le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, ha detto che oggi i casi riscontrati sono 9 nella città metropolitana di Milano e uno a Brescia. A chi le chiedeva se fosse preoccupata per l'escalation di questo tipo di variante, Moratti ha risposto che al momento abbiamo ancora pochi casi, per vedere delle evidenze che ci indichino con sicurezza il livello di contagio e di pericolosità della Omicron, per cui preferisco non esprimermi. Parliamo di vaccinazione ai bambini. È ancora in corso, lo potete seguire anche sullo streaming della nostra pagina Facebook, la diretta di Regione Lombardia. Stop ai dubbi, questa edizione è dedicata proprio alle vaccinazioni ai bambini, con numerosi specialisti, molti pediatri, tantissime domande che sono arrivate appunto in Regione, che hanno toccato molti temi. Noi abbiamo scelto una domanda relativa alle allergie, perché abbiamo visto che è uno degli argomenti sensibili. Su quella che è la tutela massima nei confronti di bambini che possono avere avuto grave reazioni, si diceva farmaci o vaccini, il personale in questi grandi hub vaccinali metterà in atto tutta una serie di precauzioni, di osservazioni, ad esempio in alcuni casi l'osservazione che può essere prolungata dopo il vaccino. Teniamo conto che siamo in un sistema organizzato. E poi come vicepresidente della Società Italiana di Pediatria, permettetemi di dire che in Italia noi abbiamo la figura, abbiamo un raggiungimento di un livello di tutela sanitaria nei confronti dei bambini con un medico pediatra che assiste il bambino. Questo non è qualcosa che hanno tutti i bambini nel mondo. L'Italia è uno dei pochi paesi in cui il pediatra non è un consulente che viene chiamato quando il bambino sta male, come succede in tanti paesi, ma è proprio una figura chiamata di famiglia, pediatra, pediatra ospedaliero, cioè è una classe di professionisti, di operatori sanitari a tutela del bambino e della sua famiglia. Quindi anche in casi in cui c'è nell'anamnesi, nella storia clinica di questo bambino, ad esempio una storia di gravi reazioni allergiche, avremo la tutela negli hub vaccinali che sono dotati di tutte le assistenze e anche tutta l'anamnesi dedicata a quel singolo bambino. Ma abbiamo anche il passo prima, l'abbiamo visto anche in tantissimi casi, per i bambini che abbiamo vaccinato sopra i 12 anni, dove il sistema ha funzionato alla perfezione. Vi dicevo che sono tantissime le domande che sono arrivate e alle quali hanno risposto gli specialisti invitati da Regione Lombardia in questo appuntamento. Domani sera vi proporremo una sintesi abbastanza ampia, di un'ora e mezzo, a partire dalle 21 in prima serata, con la maggior parte delle domande, quelle diciamo più ricorrenti, alle quali appunto gli esperti risponderanno. Domani sera alle 21 anche qui su E-Live con hashtag Stop Ai Dubbi. Ed ora invece rimaniamo in Regione Lombardia perché la Giunta ha scelto quante, anzi, dove saranno, perché quante era già stato scelto dalla riforma sanitaria, dove saranno le case di comunità nel nostro territorio, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali. 34 case di comunità, 7 ospedali di comunità, 12 centrali operative territoriali. La Regione Lombardia ha deciso anche per la provincia di Brescia, dove sceglieranno. Le strutture, assicura la Giunta, sono distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio lombardo, con case di comunità ogni 50.000 abitanti e un ospedale di comunità ogni 150.000 abitanti. Con particolare attenzione alle zone difficilmente raggiungibili, per le quali sono stati previsti standardi di popolazione ancora più bassi. Le case di comunità saranno distribuite nei distretti della SST, spedali civili, Franciacorta, Garda e Vallecamonica. A Brescia città, in via Riefca, Corsica, Marconi, Duca degli Abruzzi, via Milano e piazzale spedali civili. In provincia, a Tavanole, Rezzato, Ospitaletto, Travagliato, Flero, Nave, Gardone, Valtrompia, Chiari, Iseo, Solo sull'Oglio, Mariga, Desenzano, Montichiari, Gavardo, Verolanua, Salò, Garniano, Nozza, Leno, Lonato del Garda, Edolo, Breno, Darfo Boario Terme, Cegolo, Pisogne, Ponte di Legno, Berzo Inferiore, Ossimo, Esine. Gli ospedali di comunità saranno gli ospedali civili di Brescia per la città, in provincia, Gardone e Valtrompia, Palazzolo sull'Oglio, Orzi Nuovi, Leno, Lonato del Garda, Esine. A Brescia, Rezzato, Iseo, Orzi Nuovi, Montichiari, Cunettone di Salò, Nozza, Leno e Breno, ci saranno invece le centrali oative territoriali. Si conferma così, spiega Letizia Moratti, la graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due case di comunità e un ospedale di comunità in ciascuna delle ATS Lombarde, a dire, dal 31 dicembre 2021. Ed ora vi porto sul nostro giornale online per i dati diffusi dal Ministero della Salute e elaborati da Regione Lombardia. Vedete che la positività è stabile al 3,2%, a Brescia altri 533 casi. Dati, 162.768 tamponi processati, 5.304 i nuovi positivi, un numero che aumenta anche nella giornata di oggi. Vi dicevo, Brescia 533 i casi accertati. Sul fronte degli ospedali situazione più o meno stabile, un paziente in più in terapia intensiva, salgono a 146. 1.185 invece i pazienti non in terapia intensiva, ce ne sono 4 in meno rispetto alla giornata di ieri. Purtroppo rimane anche alto il numero dei decessi, altri 20 decessi. E in quest'ultima giornata 4 sono a Bresciani, 3 donne della città di 86, 89 e 94 anni, una donna di concesio di 85 anni. Tutti i dati qui sul nostro giornale online. Ieri era stato nostro ospite a 7 e mezzo il Presidente di Regione Lombardia Fontana, ha parlato di vaccinazione, ha parlato del record di vaccinazione in Lombardia, ma anche di bilancio e ha assicurato che i Lombardi perlomeno non verranno messe le mani in tasca. Servizi garantiti, anzi forse qualcosa in più anche per il prossimo anno, senza alcun aumento delle tasse regionali. È un ottimismo che deriva dalla consapevolezza di quello che dico, perché io penso che l'unica valutazione che si possa fare senza introdurre questioni scientifiche che io non sarei in grado di sostenere è il raffronto con i numeri. I numeri ci dicono che rispetto all'anno scorso si sta vivendo un'altra realtà, una realtà imparagonabile sia per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive, sia per quanto riguarda il numero degli ammalati. È un ottimismo che io credo sia dovuto anche nei confronti dei cittadini lombardi che hanno fatto grandi sacrifici, che hanno fatto grandi sforzi, ma che si sono sottoposti in maniera assolutamente civile alla vaccinazione e questi sono i risultati. Visto che siamo a dicembre è il discorso del bilancio, quindi siete... Siamo in fase di approvazione, il bilancio è un bilancio che con grande orgoglio posso dire manterrà tutti i servizi che abbiamo reso fino allo scorso anno, ma fino all'anno corrente forse qualcuno verrà ulteriormente implementato e non andremo ad aumentare di un euro le imposizioni nostre, fiscali, che ci competono. Abbiamo cercato e siamo riusciti, questo lo dobbiamo al fatto che i bilanci della Lombardia sono eccellenti da sempre, il nostro rating è superiore a quello dello Stato, che è significativo e devo dirle che anche in questo anno facendo qualche sacrificio, facendo qualche sforzo, siamo riusciti però, ripeto, a dare gli stessi servizi e forse qualche piccolo servizio in più, ma non a mettere le mani nelle tasche dei cittadini lombardi. E mi lasci dire che non è poca cosa, perché nel nostro paese lo si dice sempre in campagna elettorale, questa cosa, ma poi nella realtà dei fatti poche volte si verifica. E' uno slagarmolo utilizzato. E' uno slagarmolo utilizzato prima, noi lo possiamo utilizzare dopo. Siamo alla cronaca con il questore di Brescia, Signer, che ha deciso per un daspo nei confronti di una ventenne che aveva fatto esplodere un fumogeno all'interno dello Stadio Rigamonti. Il questore di Brescia, Giovanni Singera, ha emesso un divieto di accesso alle strutture sportive a una ventenne responsabile di aver detenuto e esploso un fumogeno negli aspalti affollati dello Stadio Rigamonti di Brescia lo scorso 5 dicembre, durante l'incontro di calcio Brescia-Monza. Alla ragazza è stato quindi vietato di andare allo stadio per un anno, comprendendo l'intero campionato in atto e metà di quello prossimo. In realtà questo è il secondo divieto di accesso alle strutture sportive che il questore emette durante la stagione sportiva in corso del Brescia Calcio. L'emissione del primo si era resa necessario a carico di un ventenne che alla fine della partita Brescia-Pisa, il 26 novembre, veniva sorpreso dalla polizia mentre tentava di lanciare una bottiglia di vetro contro un pullman a carico di tifosi in trasito. A quest'altro giovane è stato vietato di andare allo stadio per i prossimi due anni. Oltre allo stadio per assistere alle partite del Brescia, i giovani in questione non potranno recarsi in tutti i luoghi o stadi e impianti sportivi, siti sia nel territorio nazionale che nel territorio degli stati esteri dove si svolgono manifestazioni sportive, compresi gli allenamenti di qualsiasi livello agonistico, nazionale o internazionale, professionistico o dilettantistico, anche amichevole, connesse a sport come calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby, pallanuoto. In particolare in occasione dello svolgimento di queste manifestazioni non potranno accedere agli impianti sportivi e non potranno sostare durante l'afflusso e il deflusso da tre ore prima e sino a tre ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva nei luoghi antistanti gli impianti, gli stadi, alle stazioni ferroviarie, alle stazioni di autoline, alle metropolitane, agli scali aerei e aeroportuali, ai caselli e alle aree di servizio autostradali e agli altri luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a queste competizioni sportive. E adesso parliamo del Natale nei quartieri perché quest'anno i CDQ, i comitati di quartiere si sono organizzati tutti per una serie di iniziative all'interno del proprio territorio coinvolgendo molti cittadini che hanno partecipato ad esempio ad abbellire gli alberi di Natale. A Casazza ci sono stati anche i bambini delle scuole, del quartiere coinvolti proprio nella realizzazione degli addoppi, li hanno creati a scuola e oggi li hanno consegnati al CDQ. Il caso di dire che la partecipazione di quella Casazza non manca. Non manca e ha riscosso tantissimo successo e voglia di stare insieme quest'anno con l'iniziativa del Natale, penate e volute dal nostro Consiglio di quartiere. Io ringrazio in particolare Gloria e Ma che sono appunto le ideatrici di queste iniziative. Oggi c'è stata la consiglia di prima decorazione da parte delle scuole, la scuola materna Tadini e la primaria Casazza. Sabato ci sarà un altro momento di grande festa con tutta una giornata dedicata al Natale, al nostro quartiere. Quest'anno ci siamo impegnati perché sono stati due annetti abbastanza tristi, chiusi in casa. Abbiamo pensato a queste iniziative per far uscire la gente di casa, ritrovarsi dai bambini asiani che ne avevano assolutamente bisogno. Siamo partiti con un calendario con immagini nuove del quartiere, lavori che abbiamo fatto quest'anno e com'era il nostro quartiere. è stato molto appassato. Abbiamo chiesto l'aiuto dei bambini per addobbare un albero molto grande in quartiere, di modo che sia il dono delle magliette che hanno fatto i cittadini, che poi verranno date alla Catas, che la partecipazione delle tre scuole presenti. E poi faremo varie iniziative, mercatini, faremo il Babbo Natale che consegnerà la paramella, insomma una serie di iniziative per far sì che la gente durante il Natale sia in strada e si possa fare curi. Qui a Casalza sono stati davvero molto bravi, ma anche negli altri quartieri stiamo riscuotendo un grande successo per l'albero, questo messaggio simbolico che vogliamo dare a tutta la città dove ognuno può addobbarlo come meglio. Quindi la comunità che si stringe sotto un simbolo del Natale, soprattutto dopo due anni così difficili, per cercare un po' di gioia e di serenità in questi giorni natalizi. Quindi auguro a tutti voi un buon Natale da parte dell'amministrazione comunale e siamo veramente felici di quanta partecipazione vediamo nell'addobbare questi alberi. Questo è immenso e quindi... Qui ai bambini addirittura hanno portato degli addobbi fatti da loro a scuola, all'asilo... Esatto, qui hanno dato con delle cose fatte proprio a scuola. In altri casi sono stati fatti anche dei corsi serali per andare proprio a creare delle palline personalizzate e in altri alcune associazioni hanno donato alberi fatte anche da associazioni peraltro straniere. Quindi è davvero tutta una comunità che si stringe sotto questo bellissimo dono del Natale. E di Casalza parleremo anche stasera a sette e mezzo. Il nostro ospite ci sarà appunto Luca Pomarici, presidente del CDQ di Casazza, per parlare del Natale ma anche di tutte le altre questioni che riguardano il quartiere. 30 secondi di pausa e poi noi prendiamo la nostra pagina sportiva. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom & Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom & Jerry. Facile, veloce. Aperto tutti i giorni festivusi. In via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buona serata agli amici sportivi. Brescia in primo piano perché innanzitutto oggi ha parlato Matteo e ha ammesso insomma dobbiamo giocare in modo più aggressivo quando siamo in casa. Sono qua tre anni e mezzo, sono contento. Io ero arrivato qua con fiducia e prima, prima, prima non era difficile però salutiamo la Serie A e la è troppo difficile e poi ho toccato la Serie B e ora dobbiamo, dobbiamo giocare, giocare bene e speriamo che la prossima non giochiamo più, giochiamo in Serie A. Per tutti gli allenatori avevo qualcosa di speciale, solo questo. Non mi frega chi mi allenare, per me è importante solo una cosa, è Brescia, solo questo. Si gioca per tifosi e non dobbiamo stare nervosi perché fuori a casa giochiamo bene, a casa giochiamo un po' secondo me nervoso, però noi a casa dobbiamo giocare più aggressivi, questo mi manca un po' a casa, più aggressivi dobbiamo attaccare tutti e questo mi manca a casa, ma fuori a casa giochiamo così, dobbiamo essere più aggressivi e vogliamo vincere più fuori a casa. Per quanto riguarda il Brescia invece in vista della partita con il Cittadella, di questo parleremo magari nei prossimi giorni, ma domenica c'è un altro appuntamento con un altro 100 per mister Inzaghi. Un 100 tira l'altro, il numero di panchine in Serie B festeggiato lo scorso fine settimana a Ferrara contro la Spal perché Filippo Inzaghi adesso si ritrova a quota 99 vittorie nei campionati professionistici italiani. Ovviamente conteggiando anche i match di spareggio, i suoi successi sono 22 in Serie A, 54 in cadetteria, 23 in Serie C. Così contro il Cittadella potrebbe festeggiare il suo secondo 100 consecutivo, serviranno però a quei tre punti sfuggiti negli ultimi due impegni a Rigamonti. Non ci sono però precedenti in categoria con il collega Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella. Il mister dei Veneti infatti nelle passate stagioni faceva da secondo Roberto Venturato dopo l'addio del coach originario. Ecco la promozione nel ruolo di primo allenatore, una scelta che al momento sembra azzeccata. Al contrario il club veneto è stato avversario del mister Piacentino già in quattro occasioni, tutte in cadetteria. La prima volta con il Venezia, un derby dove arrivò un K.O. per Inzaghi, era la stagione 2017-2018. Successivamente ecco tre successi, senza soluzione di continuità. Uno con gli arancioni verdi e due dalla panchina del Benevento. Da sottolineare un dato piuttosto particolare. In quattro faccia a faccia, fra Inzaghi e il Cittadella, le reti marcate sono state BIN 14, praticamente poco più di tre a match. Soprattutto hanno sempre trovato la via del gol entrambe le squadre in campo, quella allenata dall'oggi tecnico bresciano e quella in casacca granata. Mi fermo qui con questa edizione del nostro giornale. Vi ricordo che tutte le notizie, come sempre, le trovate sul nostro giornale online, livebrescia.tv, che si aggiorna nel corso della serata. Se volete ricevere le nostre notizie direttamente sul vostro smartphone, allora iscrivetevi ai nostri canali Telegram, livebrescia news, livebrescia sport, anche cliccando su questo banner e le notizie arriveranno direttamente sul vostro smartphone. Breve pausa e poi noi ci ritroviamo a 7 e mezzo. Stasera con Luca Pomarici, presidente del CDQ di Casazza. Parleremo appunto del quartiere, delle iniziative del Natale, ma non solo. Vi aspetto tra poco con il telegiornale appuntamento a domani. Buona serata a tutti. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.